Anche l'arte migliora la vita. La mostra Ulisse, l'arte e il mito sostiene il progetto Casa Betania, scelto con MediaFriends per dire no al disagio sociale e giovanile. Un'occasione unica per ammirare opere straordinarie, dall'VIII secolo a.C. ai nostri giorni, in una cornice espositiva di rara bellezza. Ulisse, l'arte e il mito. Forlì Musei San Domenico, fino al 21 giugno 2020. Grazie a tutti.